ciao ciao a tutti ci siamo sì scusate ma ovviamente deve cadere la linea cioè mi si deve impallare internet vabbè ci siamo eh siamo qua siamo qua ciao Melissa ciao aspettiamo che arrivi qualcuno ciao Nadia ciao Bianca ciao ciao iniziamo subito eh ciao Luca ci faccio ciao Bruna ciao Francesco ciao a tutti ciao benissimo ok ok stavo guardando un video mi stavo facendo due risate eh poi magari ve lo linko fa scassare eh di uno che si chiama il defuffatore digitale prende praticamente per il culo tutti quelli che fanno il mio lavoro in sostanza no però mi fa ridere che fa i video anti motivatori tipo Monti con la gente lì e poi sponsorizza sponsorizza il video su facebook vabbè cose però fa ridere il video dai ogni tanto un po' di satela ci va come state io mi sto bevendo il mio intruglio e questa sera parliamo di appunto vendere di brutto con i social se siete pronti tra l'altro eh si sente fatemi fatemi un cenno giusto per capire se si sente bene aspettiamo ancora un secondino e poi incominciamo subito che stasera sono bello carico ne ho un bel po' da dirvi ok intanto ditemi come state se si sente se avete cenato se siete in digestione se avete già fatto il ruttino insomma queste cose qua ok Bianca grazie sì ciao Francesca ciao perfetto si sente ok ok si sente benissimo ok stasera parliamo di ciao Simona ciao parliamo di come vendere di brutto con i social ovvero cosa serve alla fine perché siamo qua tutti quanti perché comunque dobbiamo fare il nostro lavoro il nostro lavoro vuol dire portare a casa i money e se siamo qui se cerchiamo tecniche di marketing se cerchiamo tecniche per migliorare le nostre vendite automaticamente per farci un po' di grana quindi alla fine non è sbagliato parlare di fare soldi con i social e per fare soldi bisogna vendere ovviamente vendere di brutto con i social quello di cui voglio parlarvi stasera ciao Daniela ciao quindi cerchiamo un attimino di capire come impostare tutto il nostro sistema la strategia per cercare di aumentare le vendite aumentare i profitti se voi seguiste personaggi oltreoceano che fanno questo di lavoro ovviamente loro hanno numeri mostruosi ma vi parlo di persone che sono diventate six figure seven figures cioè soltanto cioè vuol dire sei figure ok quindi centinaia di migliaia di dollari o milioni di dollari sono trasformati milioni di dollari soltanto con i social perché perché hanno capito il modo di scalare le campagne e il modo di trarre profitto ovviamente da queste però è chiaro che la cosa più sbagliata del mondo sia pensare che facebook in primis sia un posto gratis ok i social non sono una cosa gratuita sono una cosa gratuita lo pensi tu la prima volta che ci entri e che fai il tuo profilo poi quando comincia a capire come funziona il meccanismo pubblicitario chiaramente cambi subito idea ok i social non sono un posto gratuito sono un'agenzia pubblicitaria sono un'agenzia pubblicitaria che ti permettono di arrivare al tuo target e vendergli i tuoi servizi e prodotti va bene quindi iniziamo e parliamo di social selling ok sdoganiamo questa parola social selling è l'arte di fare business con i social non è che il social e noi dovevo intendere come l'e-commerce ok che è quest'altra cosa sbagliata il social è il mezzo fondamentale primario che tu utilizzi per raggiungere il target ok e che utilizzi per trasformare un potenziale cliente che non ti conosce a un cliente fidelizzato che ti compra ti ricompra ma soprattutto ti sponsorizza ok questo è importante mettitelo bene in testa il social selling quindi fondamentalmente sempre vendere ok fare marketing ma partiamo da una base di social di advertising sui social che è un po quello che è la mia expertise la mia specializzazione cioè io parlo di questo ovviamente fa sempre parte del marketing quindi qualcuno ti potrebbe venire a dire eh Marco ma non ti sei inventato l'acqua calda no di certo non mi sono inventato niente vorrei dirvi che nessuno qua si inventa nulla in sostanza se tu inventassi un nuovo metodo per pulire con lo straccio il marmo del top della cucina chiaramente ovviamente stai parlando di fare pulizie non le hai inventate tu quindi a un certo livello è chiaro che ragazzi non è che le cose ce le inventiamo ma il discorso è adattare a un contesto differente quello che sono le leggi le fondamenti le regole del marketing il marketing è stato scritto migliaia di anni fa quindi in realtà io non sono l'inventore del marketing quindi per questo per chi ti dice stai dicendo sempre le stesse cose devi un attimino resettare il tuo cervello e capire gli adattamenti e le semplificazioni che si fanno quando si parla di un argomento ok fino qua ci siamo quindi social selling è l'arte di fare business con i social ovvero sfruttiamo i social per fare business ovvero facciamo grana con i social quindi partiamo dai social network quali Daniela ride social network parlo del più importante che è facebook che è un po la mia specializzazione ma comunque non c'è solo facebook oggi ne individuiamo tre che sono i principali che i principali player dei social che si suddividono per per specializzazione ovvero facebook è il primario poi c'è linkedin e c'è anche instagram sono lì che si gira intorno ok uno funziona meglio di un altro peggio di un altro si adatta meglio un contesto un contesto piuttosto che un altro ok quindi ora che abbiamo capito cos'è il social selling ora che abbiamo capito che intanto faccio un sorso avete cenato ragazzi ditemi qualcosa da interagiamo perché tanto siamo siamo live live show e finalmente non devo fare solo quello che parla da solo a raffica se no poi va a finire che faccio i monologhi quindi interagiamo un pochettino sfruttiamo ste dirette ok passiamo quindi a parlare dei cinque elementi che caratterizzano il social selling ovvero ci sono delle delle cose fondamentali ok delle fondamenta che non possiamo mai dimenticare quando dobbiamo impostare la nostra strategia di social selling quindi la prima cosa principale che devo pensare ok quando vado a parlare di stai pulendo la cucina stai usando il metodo che ho spiegato prima del top di marmo ok la prima cosa importante cinque elementi è avere una big idea la seconda è avere un target avere un format un budget e un fan queste sono le cose fondamentali ok big idea big idea target format budget e fan queste sono le cose che devono andare in fila in quest'ordine e adesso andremo a esaminare uno per uno gli elementi andando a capire andiamo andando a cercare come potremmo adattare queste cose al nostro modello di business e soprattutto come poter fare social selling con nostro modello di business ok qualunque esso sia perché chi più chi meno è sempre possibile fare social selling ok chi più chi meno poi adesso parleremo anche di questo comunque questi sono i cinque elementi dobbiamo tenerli sempre a mente soprattutto dobbiamo cercare di individuare quali sono i livelli di difficoltà che posso ottenere tra un livello e un altro ok parliamo della big idea ok questa è la cosa più complicata che però non è un un'area che andremo a trattare nel profondo perché stiamo parlando comunque di brand stiamo parlando di prodotti servizi quindi non è la sede questa però cos'è la big idea la big idea è la soluzione ok la grande soluzione che tu dovresti avere in testa per rispondere a una richiesta di mercato piccatelo in testa qualsiasi business fai è anche se vendi le biglie al mercato deve deve avere in testa una big idea perché altrimenti risulti essere una persona che vende cose che vendono anche gli altri e praticamente verrà riconosciuto nella nella vita soltanto per il prezzo quindi anche se sei concorrenzialmente appiccicato a qualcos'altro devi comunque avere una big idea a un certo punto per far sì che le persone dicono ok preferisco comprare da te piuttosto che un altro quindi la tua big idea è rispondere a questa richiesta di mercato per far dire alle persone ok preferisco comprare da te piuttosto che comprare da un altro da un tuo concorrente ok ci siamo fino qui non voglio fare il super monologo che parlo come un mitra stasera quindi quando avete qualcosa quando avete qualche domanda se non avete capito qualcosa scrivete ok quindi senza una big idea non puoi muoverti avanti ok rimani lì fermo è inutile ciao alessandra ciao che piacere vederti è inutile voglio parlare di sponsorizzati di social pagina facebook cazzi e mazzi in culo non funziona niente devi essere devi partire di base con un'idea che al mercato interessa ok l'idea è è proprio il tuo prodotto e tuo servizio ok è quello cioè quello che tu vendi però deve avere una soluzione di mercato una richiesta di mercato perché se quello che tu promuovi quello che tu vendi come tuo prodotto servizio non interessa al mercato non c'è non vai avanti non ti puoi muovere non esiste quindi in realtà devi devi parte tutto dal mercato ok quindi quando c'è una richiesta di mercato dopo parleremo anche di quando non c'è la richiesta di mercato ma quando c'è la richiesta di mercato devi promuovere la tua big idea cioè devi creare un prodotto servizio che sia più allettante di quello che fanno gli altri quindi il tuo potenziale cliente devi dire bello preferisco comprare te piuttosto che un altro ok la cosa importante è che il si blocca in continuazione risulta anche a voi ragazzi che ci siano dei blocchi ditemelo che cerco di sistemare se è così è in qualche modo intanto comincio a togliere un po di ditemi se anche voi notate che ci sono dei blocchi ok intanto io chiudo tutto per non rischiare ok ok non si blocca bruna probabilmente è un problema che hai nella tua connessione non mi fare prendere collassi che già stasera mi è venuto un mezzo collasso quando ho visto quando ho visto che che praticamente alle 21 precise mi si deve bloccare la pagina ciao fernanda non c'è di meglio da guardare fernanda che vedere sto cretino col cappello e nessun blocco ok allora qua c'è una domanda nadia dice perciò i miei abiti non interessano nessuno in teoria sei quanti negozi ci sono allora il discorso è che tu devi trovare un'idea diversa di proporre quello che che è una commodity cioè di base i vestiti sono una commodity ok a meno che non ci appiccichi un marchio particolare esclusivo insomma comunque di base una maglia una maglia una camicia una camicia di base sono commodity le commodity sono le cose che da una parte trovo l'altra ok la moda è stata inventata appunto per dare una big idea cioè dare una soluzione diversa quindi quando tu hai una camicia normale senza nessuna marca ma quando ci appiccichi sopra un marchio cioè ci metti i gucci come mai si alza la percezione quindi in realtà il discorso è differente cioè bisogna attaccare un'idea a quello che è una commodity ok io e Tony siamo interessati grandi e quindi non è un discorso di di interesse ma è un discorso di idea questa idea va migliorata va va sintetizzata il messaggio che tu dai deve essere in grado di dire ok preferisco acquistare i tuoi vestiti piuttosto che acquistare gli altri ok questo è sicuramente un motivo di discussione molto lungo che perderebbe praticamente tutta la sera solo parlare di questo ecco perché il webinar di stasera non è incentrato in questo diamo per scontato che noi abbiamo già trovato una soluzione differente ok poi da lì svilupperemo tutto il resto del fan per dire anche le informazioni oggi le informazioni che si danno guarda per dire quello che faccio io sono una commodity nel senso tutti se tu apri tutti stavano oggi parla se la rido perché ci sto pensando vendere patate ok ciao fiorella e tutti oggi possono dare informazione tutti danno informazione c'è un sacco di fuffa in giro un sacco di schifezza in giro il fatto di specializzarsi dare le informazioni in maniera differente darne con continuazione cercare di dare risultati parlare dei risultati che hanno ottenuto le persone che hanno studiato con te parlare della tua expertise insomma tutta una serie di cose ti differenzia ok anche l'esperienza che tu fai fare al tuo pubblico è quello che ti differenzia infatti chi ascolta me talvolta mi ascolta un po' perché si diverte un po' perché do informazioni di valore un po' perché sono specializzato nei social insomma c'è una serie di cose che mi porta a dire ok ascolto marco piuttosto che andare su youtube e scrivere come fare i soldi con i social perché tanto troverete solo dei cazzari e prima o poi troverete anche me come cazzaro nel senso che sarò salito in organica su youtube e per fortuna potrete sentirmi anche da lì comunque la big idea è una cosa che bisogna avere per partire quindi bisogna avere un prodotto servizio se la big idea più è grossa la big idea meglio è per voi quando dovrete mettervi sul mercato più siete deboli sulla sulla big idea e peggio è la vendita esperienziale dice alessandra sì la vendita esperienziale esatto io punto molto sull'esperienza sull'esperienza lo dico sempre anche nei miei corsi l'esperienza che tu fai fare al tuo potenziale cliente in realtà è per te un vantaggio enorme proprio nei quando si parla di rivendere e di farti sponsorizzare quindi l'esperienza che tu puoi far fare c'è l'esperienza che tu fai fare al tuo potenziale cliente è ottima io lo è una cosa che quando faccio formazione dentisti faccio c'è punto ci butto tantissimo sopra perché andare dal dentista non piace a nessuno ci vai perché hai un problema ok ho un problema un'esigenza particolare di estetica quindi non non vai volentieri dal dentista creare un'esperienza fantastica in un posto che tu solitamente trovi orribile è praticamente il segreto per crearti una schiera di fan quindi quando tu se tu riesci a superare questo gradino e a rendere il migliore possibile un'esperienza negativa come può essere quella la paura la fobia di andare dal dentista hai hai fatto cento le fantobingo questa è una di quelle cose su cui appunto molto quando faccio formazione odontoiatrica bene quindi appurato che abbiamo una big idea comunque abbiamo una un'idea che dia una soluzione al mercato ok ragazzi non non ci possiamo inventare nulla ciao luigi ciao buona sera buona serata hai chiuso hai finito di tagliare i capelli quindi andiamo avanti e continuiamo allora abbiamo detto che abbiamo fatto abbiamo finito che la big idea ce l'abbiamo stasera ho visto un video sui sui fattori ma tu non eri nominati perciò ufficiale non sei un cazzaro ne ho parlato appena arrivato in diretta che lo stavo guardando anch'io perché quel pirlone che ha fatto il video la sponsorizzata mi faceva un po ridere la cosa che ce l'avesse quei motivatori può utilizzarsi le tecniche di marketing per insomma per far vedere il suo video però mi puzza un po' sta storia probabilmente c'è qualcosa sotto qualcuno che ha avuto una rosicata potente e per investirci soldi addirittura sopra comunque ma probabilmente perché non mi conosce se no ci finivo subito anzi cazzone come sono io con le stronzate che che dico sempre col mio modo di fare un po così ci finivo per primo sono rimasto fortunatamente non sono abbastanza famoso speriamo ancora ok dai andiamo avanti dovrei sentire di fare ciao bruna se non ci potevamo più sentire ciao ciao allora andiamo avanti quindi big idea ne abbiamo parlato la seconda cosa di cui dobbiamo parlare è il target ok una volta che ho individuato una idea una soluzione un prodotto da offrire devo avere ovviamente un target a cui mostrarlo è impossibile dire tutto per tutti ok tutto per tutti equivale a dire niente per nessuno è la stessa identica cosa non c'è nessuna differenza tutto per tutti niente per nessuno quindi una volta che ho individuato un target la domanda che anzi prima di dire ho individuato un target la risposta cioè la domanda che devi fare subito è a quale target mi rivolgo quale target ti rivolgi tu in questo momento col tuo business prima di parlare di social selling devi farti questa domanda seconda cosa per questo target ok è pronto a ricevere il prodotto servizio quello che dicevo prima perché attenzione se una cosa in linea di massima non viene venduta da nessuno e tu un giorno ti svegli dal letto ti alzi ho trovato un'idea mica spacca tutto non lo fa nessuno ti posso già dire non perdere le tue aspettative che primo questo succede a tutte le persone umane di svegliarsi con l'idea del secolo il nuovo Zuckerberg il secondo ragazzi se non lo vende nessuno probabilmente non esiste se non lo vende nessuno non esiste il prodotto non esiste il mercato ok quindi gli inventori muoiono magri gli sfruttatori muoiono grassi funziona così steve jobs non è stato un inventore di nulla è stato uno sfruttatore di altre idee ok quando qualcuno inventa un qualcosa muore magro ok quindi una volta che ho pensato ok qual è il target devo individuare questo target soprattutto devo andare a farmi la domanda non so se avete fatto il corso gratuito che ho linkato nel posto fissato in alto che smettila di fare le ads c'è appunto porto l'accenno della piramide del target cos'è la piramide del target piramide del target è il grado di focalizzazione che tu devi avere sul tuo target specifico faccio sempre l'esempio del cane io ok io vendo accessori per animali quindi la piramide del mio target in basso è tutti i proprietari di animali ok se però io vendo crocchette per cani automaticamente non mi posso rivolgere a tutti i proprietari di animali ma dovrò cercare di andare su sulla piramide finché non trovo il livello giusto per dire magari in punta alla piramide c'è il proprietario di cane che abita nel mio quartiere che ha un cane maschio zoppo di 13 anni ok quella è un'ultra focalizzazione non ci interessa man mano che scende abbiamo invece un'ultra generalizzazione quindi quando devo andare a rivolgere la mia big idea il mio prodotto il mio servizio a qualcuno devo anche capire a quale grado di focalizzazione di questo target mi devo rivolgere per esempio faccio il fatto ho fatto l'esempio dei dentisti per dire io devo vendo formazione a chi ha uno studio dentistico quindi dentistica non uno studio fondamentalmente però l'ambiente odontoiatrico è pieno di altre persone ci sono gli assistenti ci sono i dentisti che fanno i collaboratori in altri studi ci sono gli studenti di odontoiatria quando devo andare a pubblicizzarmi devo decidere in quale gradino ok posizionarmi nel corso che vi proporrò a fine webinar quindi non scappate prima perché c'è la promo e parlerò nell'esattezza vi farò vedere questo caso studio preciso di come ho ottenuto risultati pazzeschi ctr che se non sapete cosa sono sono risultati delle ads altissimi in un settore che non mi conosceva perché perché ho utilizzato una leva quindi devo capire comunque a chi rivolgere la mia grande idea ma soprattutto devo andare a cercare a capire dove rivolgere cioè a che punto rivolgere della piramide per dire se per dire avete uno studio dentistico lì non mi conviene targhettizzare troppo soprattutto se siete un'attività local in un paese sotto i centomila abitanti questo problema non me lo faccio più già non già non si fa non c'è non non è un problema ok lì fai fare facebook in realtà se invece ti rivolgi al mercato italiano il mercato internazionale allora queste cose sono molto importanti quindi cercare di capire dove andare a targhettizzarmi è importantissimo è chiaro che se sei in dentista devi vendere tu vendi protesi ok è chiaro che tu fai fai cosa fai lo mostri a tutti il tuo annuncio se sei in una città piccola ma poi nel tuo copy quello nel tuo testo dirai hai una protesi insomma parlerai ti parlerai cioè scremerai farai tutto il lavoro di filtro con il copy ti rivolge a tutti ma sopra filtri questa è una cosa abbastanza semplice quindi una volta che ho individuato il target giusto passiamo al terzo fondamentale va buona che è il format cos'è un format il format è quello che sto utilizzando io adesso cioè è il mezzo con cui tu devi andare interessare il target della tua big idea va bene molto spesso quello che vedo nei corsi soprattutto nei corsi facebook fanno l'errore enorme di spiegarvi come funzionano le ad senza dirvi un cazzo di quello che ci sta in mezzo tra voi e le ads c'è un mondo va bene noi stasera stiamo parlando di quel mondo è inutile comprare un corso facebook dove non vi si spiegano queste cose perché tu prendi tu file sponsorizzate senza sapere senza avere un format senza sapere che il tuo target senza avere capito come mostrare la tua big idea tu alla fine bruci i soldi ed ecco perché vi dico smettetela di fare le ads ecco perché ho fatto il corso che trovate fissato nei commenti qua in alto smettetela di fare le ads non fate le ads perché quello che vi dicono oppure se fate di testaccia vostra bruciate soldi è come prendere un accendino e una banconota e bruciarla così e bruciare soldi lanciarli così giù dalla finestra e chi si è visto si è visto quindi no non bruciate più soldi statevi buoni e soprattutto cercate di capire le cose come vanno fatte quindi ascoltatevi bene quello che ha da dire marco doria che oltre a essere un cazzone dice le cose giuste ma soprattutto dice le cose vere applicabili nei social quindi il format è il mezzo con cui devi interessare il tuo target la tua big idea ok per dire il mio format in questo momento è questo webinar dove ti sto dando informazioni sto cercando anche di farti fare qualche risata e sto rompendo anche un po le scatole quindi quello che dobbiamo fare è capire come mostrare le no il nostro format al nostro target per andare a vendergli l'idea ok vende gli nostri prodotti e servizi se tu prendi se io adesso prendessi il mio corso ce lo ho qua prendessi il mio corso lo prendo lo sbatto con una foto su un ad se lo lascio lascio correre sopra non credere che c'è il mio target si potrei fare qualche vendita ok però non c'è tutto il processo educazionale che io sto facendo tramite il mio format cosa vuol dire processi educazionali ti sto facendo entrare in un funnel di educazione di informazioni che ti farà arrivare a da essere un perfetto sconosciuto oppure una persona che non ha ancora comprato una persona che compra i miei corsi compra i corsi di livello avanzato e soprattutto mi sponsorizza in giro quindi senza il format questo sarebbe impossibile soprattutto perché i social funzionano cioè hanno un micro organismo interno che funziona tramite delle regole su un algoritmo lo spiego bene nel appunto nel corso le alzano servono un razzo e questo microcosmo di cose che tu devi sapere tutto gira intorno al format al target quindi non puoi prendere pensare dire ok faccio pubblicità su facebook prendi 50 euro le butti in sponsorizzate perché hai buttato 50 euro c'è tipo è come aprire la finestra e buttare fuori 50 euro ragazzi non funziona così se non ottieni risultati e perché ti mancano tutta una serie di cose io mi batto per dire cose vere cose che funzionano e dire cose semplici da applicare subito ok quindi il format qual è il tuo format qual è il vostro format ditemi qualcosa nei commenti ditemi qual è il vostro format e vediamo se avete capito sono certo che la risposta sarà nessuno in linea di massimo ok il format è quello che ti serve per mostrare la big idea al tuo target se non è un format non puoi andare avanti ragazzi non stiamo parlando di niente il format può essere un video può essere un format scritto può essere delle news può essere dei fumetti come ho fatto per dire nella mia pagina sull'odontoiatria io sono entrato dove ho spiegato bene nel caso studio fatevi il corso gratuito ve lo faccio vedere comunque è semplice no non è detto che solo i video chiaramente il algoritmo facebook premia i video premia le live ecco perché adesso mi vedete tanto live non sono scemo e soprattutto non è che faccio finta di fare le live perché sono bello in realtà lo faccio per pompare la pagina è ovvio che lo faccio per pompare la pagina come è ovvio che sto facendo questo processo educazionale per vendere poi i miei corsi allora c'è una domanda ok c'è francesca che dice ancora non l'ho trovato ma ci sto lavorando guardate nel cassetto perché a volte le cose le cerchi poi ce le proprio lì sotto come le chiavi no ok comunque francesca sì sì devi lavorarci ma vabbè ma ma te giochi facile perché ti rivolgi alle mammine pancine quindi è molto semplice francesco dice sponsorizzo con i video i miei eventi se ci metto la faccia più ritorno certo allora toglietevi dalla testa chi vi dice di non mettere la faccia nelle cose allora soprattutto se siete piccoli se siete piccole realtà se siete sotto le 50 persone come azienda sotto i 50 milioni di euro di fatturato dovete metterci la faccia dovete mettercela perché quelli che vi dicono di non mettere la faccia ci mettono la faccia quando ve lo dicono mi sembra logica questa cosa c'è che vi dicono di fare una cosa poi ne fanno un'altra loro per vendere la faccia ce la devi mettere ce la devi mettere con tutto te stesso poi è chiaro ci possono essere delle situazioni in cui non la metti ma a un certo punto per superare un certo gradino ce la devi mettere perché le persone comprano da persone ragazzi le persone comprano da persone comprano un brand quando questo brand è stato nella storia quando ti è entrato nella testa che oramai va bene non serve più barilla non serve che il signor barilla che penso che non esista neanche si metta lì però che attenzione giovanni rana cosa ha fatto ok però non guardiamo quello che fanno i super le super multinazionali che non c'entrano niente noi siamo piccoli io sono piccolo quello che dobbiamo fare metterci la faccia le persone comprano una persona la fiducia si rompe prima c'è un processo di comunicazione tra le persone per cui all'inizio tu quando ti scontri con una realtà nuova che non conosci c'è il numero della diffidenza ne parlo spesso nei miei corsi nel corso copi chi l'ha fatto lo spiego benissimo il muro della diffidenza è la stessa cosa come quando tu vai a baccagliare una ragazza e se vai troppo deciso e mi dà un bacio questa ti dà un calcio nei coglioni ok questo è il muro della diffidenza spiegato nel business in quattro parole marco doria spiega le cose semplici vere e facili questo è deciso ok quello che devi fare è rompere il muro della diffidenza ok rompere il muro della diffidenza e soprattutto metterci la faccia cominciare a far a trasmettere fiducia soprattutto lo dico con i dentisti che i dentisti devono instaurare la prima cosa è importantissima instaurare un rapporto di fiducia con i loro pazienti è la cosa fondamentale e se non lo fanno prima che questi vadano in studio si troveranno poi male perché questi qua entreranno dentro con un senso di diffidenza e di paura che farà rendere pessima anche l'esperienza che tu hai cercato di rendere bellissima ok stasera vi sto anche insegnando essere dentisti mi piace come idea in e-commerce sto sponsorizzando un prodotto tanti ingressi ma zero conversione c'è un problema se hai tanti ingressi zero conversione c'è proprio un problema lì non è non è difficile come mai non comprano te lo sei chiesto o non sei capace tu a rendere la tua big idea non è veramente una cosa che ti fa dire ok compro a te piuttosto che da un altro oppure c'è proprio un problema più tecnico ma probabilmente quello la tua idea non è interessante devi essere più interessante soprattutto dei forse devi cercare di essere tu una persona che fai più educazione magari ci va più tempo ok se li prendi a freddo è probabile che sia così quindi devi cercare un modo di catturarli e portarteli dopo spiegherò anche le tecniche di flipping però cercare di portarteli in un posto dove li puoi scaldare ok la mia faccia è dappertutto grande così deve essere ok vedrai che troverai la quadra Nadia è solo una questione di trovarla a volte ci va più tempo ma bisogna battere duro bisogna lavorarci duro una questione di motivazione la motivazione a parte il video dei fuffaroli che si diceva prima messa sul cazzo cioè le cose la voglia di lavorare o ce l'hai io se no non te la devo far venire io quindi è una questione di strategia devi trovare la strategia giusta portarla avanti portarla avanti bene nel modo corretto ok quindi stavamo parlando del nostro format e il mezzo con cui devi interessare il target alla tua big idea ok quindi una volta che sei arrivato a questo punto passa la la cosa che le persone faccio più fatica a ficcare in testa ovvero il budget il budget è quello che ti consente quella cosa che ti consente di dirigere il traffico e permette al tuo format di raggiungere le persone in target a cui mostrare la tua big idea ci siamo fino adesso non è difficile se tu praticamente è tutto vedi che tutto ruota insieme se tutto agli un pezzo non funziona più ma se tu non hai budget di partenza non puoi fare un cazzo cioè boh non stiamo parlando di niente ci vanno i soldi ci vanno i soldi ci vanno i soldi per farlo e soprattutto per quello che dico che devi cercare di vendere il più possibile prodotti ad alto margine perché il margine è quello che ti serve per dirigere traffico cioè il traffico si compra ok i clienti si comprono ma il traffico si compra ok io compro il traffico da facebook facebook in organica lo sapete che lavora al 7 10 per cento adesso sta passando al 5 ovvero se tu hai una pagina facebook hai una pagina facebook con 10 che poi grande re poi ciao poi sui bassi numeri differente però facciamo proprio un'ipotesi numerica tu hai una pagina facebook con 10 persone in organica significa in maniera gratuita facebook fa vedere al 10 per cento quello che tu metti nella pagina quindi vuol dire che il 10 per cento di 10 è molto semplice lo vedrà una persona soltanto adesso il 5 per cento quindi mezza persona mezzo occhio è chiaro che parliamo più di grandi numeri quindi quando quando già superiamo i mille però questo è un dato importante facebook ti fa capire che va tutto bene lavoriamo insieme siamo amici ti voglio bene anzi in realtà mi stai sul cazzo ti dice facebook perché poi vi spiego il perché però andiamo d'accordo d'amore ma tu metti i soldi metti i soldi metti i soldi ok il traffico si paga se sempre pagato immaginate una volta quanto costava il traffico in televisione la pubblicità su media quanti milioni di euro vi partiva oppure nei canali privati magari qualcuno l'ha anche fatto che è un po più avanti con l'età quanto quanto costa per radio e manifesti e avere un commerciale che gira quanto costa quanto budget vi mette cioè non so se avete idea quanto costi un commerciale che va in giro a vendere le vostre cose ma di base se lo assumete stiamo parlando almeno almeno tra benzina e tutto di 50 mila euro l'anno con 50 mila euro a uno di traffico sapete dove andate cioè di budget da mettere sui social ma sapete dove andate ok andate a fanculo se riuscisse fate le cose male nel senso che li bruciate però facendo le cose fatte bene è un sacco sono un sacco di soldi che in realtà un commerciale sì è vero che a un certo punto è necessaria la forza vendita ma la forza vendita supportata dalla forza social è diciamo estremamente più performante quindi budget 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 cioè dovete avere budget dovete avere budget da investire se non investite budget ragazzi miei non so di cosa stiamo parlando è la cosa più importante cioè dovete avere soldi da investire che poi più funziona il vostro format più è giusta la vostra big idea più siete orientati a un target preciso meno vi costa praticamente più le altre cose non funzionano più budget ci dovete mettere perché perché quando non funzionano altre cose più il budget che bruciate quindi vedi che tutto galleggia insieme non stiamo facendo niente di 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 diverso di 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 capire qual è la strategia esatta ragazzi io vi sto dicendo una strategia vera che funziona mettetevi lì applicatela poi però se no non c'è non ha senso sentire il mio il mio webinar stasera ok quindi budget è quello che consente di dirigere il traffico e permette al tuo format dimostrare la tua big idea al tuo target ok faccio l'esempio mio Marco che budget metti io metto budget per fare l'e generation ovvero per raccogliere contatti questi contatti poi li mando al mio format che tipo questo e voi che se dovreste essere il mio target ricevete poi ovviamente dopo il mio sistema educazionale la mia proposta di vendita quello succede la mia idea è che tu devi comprare i miei corsi perché sono differenti perché io ti mostro le cose vere applicabili ok per quanto riguarda la strategia social non trovi niente di questo in giro e soprattutto io come persona sono differente perché perché ho messo le mani nella merda per 20 anni e ti posso dire che ho lavorato non ti dico in quasi tutti i settori ma insomma a differenza di tanti altri che si sono letto un libro e fanno sto lavoro ok ciao Fiona ciao Rosa Melissa una domanda adesso faccio girare in organica per 24 ore i post poi sponsorizzo come ci hai detto tu il riscontro è molto più alto devo dire che così alzato il budget ma anche allungato il periodo delle sponsorizzazioni vanno bene ok sì è vero praticamente io ho suggerito più di una volta una tecnica che prima di sponsorizzare fai girare in organica il tuo post ok cerca di avere engagement in organica se l'algoritmo dice guarda questo ha postato in organica e ha un buon risultato quando lo vai a sponsorizzare che lui vede che hai già risultato in organica ti fa già alzare ok il tuo proteggio di pertinezza il tuo quali scordi partenza sono diversi quindi queste sono già cose un po' più avanzate però a un certo punto bisogna farle però prenditi questa tecnica buttala lì fai girare in organica 24 ore prima di sponsorizzare molto semplice ok quindi sì è chiaro che ti aumentano i costi è ovvio perché perché praticamente aspetta forse ho letto male devo dire che si è alzato il budget ma anche allungato a beo cano scusa non ti siamo aumentati i costi si sei tu che hai fatto così ok quindi prendetevi sta tecnica prendetevi la per buona grazie melissa che ce l'hai ricordato quindi ok una volta che abbiamo impostato il nostro budget che è quello che ci serve per dirigere il il nostro traffico dobbiamo parlare di funnel io non voglio contraddirmi più di una volta detto che funnel non mi piace come parola ok social funnel non mi piace come parola però devo dire che a livello comunicativo la cosa che si avvicina di più a essere chiara e schietta per chi mi ascolta quindi in realtà utilizzerò social funnel ma datemi affanculo va bene lo stesso quindi il social funnel è il modo in cui porti uno sconosciuto come dicevo prima da essere un tuo potenziale cliente non sa nemmeno chi sei non ha mai avuto che fare con te insomma non ti conosce ti porta a essere ciao daniela ti porta a comprare ricomprare ma soprattutto diventare un tuo funnel il funnel serve a questo ok questo è il funnel non ci sono altri funnel ok quello che serve portare un perfetto sconosciuto a un tuo fan ci sono degli step intermedi ci sono dei gradini che spiego bene nel corso gratuito fatevelo per favore quello che che come si dice porta le persone lì è tutto quello che stiamo vedendo stasera però il tuo social funnel è a dire ok quali sono le cose quali sono le le educative il piano editoriale che devo utilizzare per educare le persone a fare queste cose quali sono ok quindi vai da ti prendi questo funnel e cerchi di portare le persone da perfette sconosciute a persone che sono tue fan di marco come si fa non te lo dico cioè se mi fai una domanda specifica ti rispondo se no ti spari il corso gratuito ti spari il mio corso pagamento e poi diventi uno studente del razzo tra l'altro siete tutti razzi voi no secondo me non siete razzi chi sono i razzi gli studenti del razzo sono le persone che hanno comprato il mio corso e poi automaticamente diventano razzi quindi qua ce n'è già studenti del razzo spero che stasera ne facciamo qualcuno di nuovo ok qualcuno stasera lo facciamo come razzo va bene social funnel quindi praticamente quello che ti permette di fare questo percorso quindi l'educazione che tu gli dai quali sono gli argomenti che di cui devo parlare per convertire una persona da un perfetto sconosciuto a un cliente cioè acquirente cliente fan perché acquirente è praticamente la persona che acquista una volta ma il tuo obiettivo come venditore non è mai avere una vendita singola ma avere pluri vendite costantemente agli stessi clienti e fare talmente contenti che oltre a ricomprare ti sponsorizzano in giro questo è un aspetto della vendita che non viene spesso specificato ma in realtà di vendere una volta sola non te ne freghiere un cazzo cioè la vendita morde fuggi non è un discorso da fare cioè boh dovete puntare a lungo periodo ragazzi dovete puntare a lungo periodo non a vendere una volta sola dovete cercare di lavorare sul lungo periodo ad alti margini e questo che porta l'azienda a prosperare fare bassi margini soprattutto a basso periodo non funziona ok una volta c'era il barista che aveva talmente tanta gente che gli entrava dentro soprattutto in liguria funziona ancora adesso c'è qualche ligure vi amo cioè vi amo dal profondo del cuore soprattutto quando vengo in vacanza lì non ci vengo più però ci ho lavorato per anni e ti trattavano a calci nel culo perché perché tanto c'era un altro che arrivava quindi appedate fuori me ne frega niente oggi non funziona più così il mordi e fuggi tanto ci sono solo io che ho il bar in paese e tu sei obbligato a venire da me se ti vuoi mangiare un panino io me la rido perché tanto non c'è nessun altro al di fuori di due chilometri non esiste più oggi se non vendi tu una persona prende questo oggetto fa click e ti spazza via dal mercato comprando in un'altra parte quindi in realtà quello che tu devi fare è far fare il viaggio esperienziale perfetto la tua persona ok al tuo potenziale cliente soprattutto cercare di farlo diventare di lavorare sul lungo periodo comprare ricomprare e devi essere top uno che c'è quello che tu dici devi essere migliore a dirlo della gente deve comprare te perché sei il migliore a dire questa cosa a vendere quella cosa quel prodotto servizio punto fine ok abbiamo una pappardina di francesca gatto intanto collego mi bevo allora ho fatto un test ho postato un argomento di tema interessante le mie pancine in target pancine per chi non sapesse è un modo satirico per prendere un po in giro le mammine che sono un po troppo come dire aficionato sei figli cioè quelle un po stupidelle le mammine pancine ci sono dei gruppi che le prendono in giro ok prende un po in giro l'ignoranza della mamma in questo senso quindi è satirico le mie pancine in target senza assolutamente provare a vendere nulla il risultato è stato con un engagement straordinario che ha fatto sedimentare per 24 ore poi sponsorizzato lì si è rallentato tutto il movimento cosa devo dedurre che ho sbagliato il target della sponsorizzata sì probabilmente è sbagliato il target perché comunque se mi devo alzare perché è scritto troppo se in organica ha funzionato bene ma in sponsorizzata funzionato male è sbagliato qualcosa sponsorizzare quasi sicuramente perché se è andata bene è difficile che tu possa aver fatto questo però allora il fatto di non vendere niente su questo ho il mio la mia personal opinione va bene va bene ok va bene parlare dare informazioni insomma fare cose senza scoprire di lucro ma attenzione voi siete sempre dei venditori dovete sempre far capire al vostro alla vostra community comunque vendete è sbagliato nascondere il fatto che voi vendiate qualcosa perché poi si trovano la sorpresa è come trovarsi una doccia fredda e vi odieranno è meglio avere meno persone che vi seguono ma persone che sanno che accettano il fatto che voi vendete ok ciao Enzo stavo parlando appunto di baristi che ti prendono a calci nel culo e ti trattano male Enzo è un imprenditore della ristorazione a un bar storico a Torino se potete andare a trovarlo in piazzetta delle erbe bellissimo entrate e il bar che fa angolo e dite vengo a prendere un caffè a scrocco lo paga Marco Doria ok lo offro io poi se prendete già il caffè al ginseng lo pagate voi io sono sempre torinese io ok andiamo avanti quindi il social funnel è quel percorso che tu fai fare al tuo potenziale cliente per arrivare da perfetto sconosciuto a tuo fan right oh che bello mi si sono piantate le slide ah quello che ci voleva ok le abbiamo recuperate quindi aspetti da tenere in considerazione Fiona dice io vendo casalinghi bene bene vendine vendi tanti allora attenzione quando si parla di social selling quando si parla di metterci la faccia sui social stiamo entrando in un mondo differente da quello che è il mondo reale i social ce li siamo inventati noi è un mondo che ci siamo appiccicati addosso ce lo siamo costruiti ed è un mondo che ci serve per avere più comodità nella vita più comodità di avere informazioni ma anche più comodità di dire la nostra questo potrebbe essere un problema problema nel senso Enzo dice ok Marco possono pagare con Satisfay so Satisfay è una figata Satisfay però eh utilizzatelo perché è figo ma non vi do il link di affilazione per fregarmi le 5 euro più cresci stiamo dicendo aspetti da tenere in considerazione più cresci come visibilità sui social più avrai problemi di praticamente haters ok sono persone che ti insultano sono persone che non hanno niente da fare andranno sotto le tue sponsorizzate ti insulteranno tenendo tutti i colori cercheranno di dire che fai schifo allora fondamentalmente le persone che fanno così sono tante sono persone frustrate che non hanno un cazzo da fare e che rosicano del fatto che tu metti la faccia sul lavoro insomma ti impegni e ti sbatti e ti prendono in giro quindi in realtà questo è un problema che avrai sempre ok da mettere in considerazione come il fatto che quando compri una macchina potresti bucare una gomma a scuola guida ti dicono come fare per cambiarla ovviamente non te lo dicono non te lo fanno fare però tu sai cioè tu già metti in conto che prima o poi bucherai una gomma ok quindi la stessa cosa metti già in conto che dal momento in cui ti metti in affari con i social avrai gli haters io ne ho tantissimi mi insultano di recente una proprio mi ha fatto scanasciare delle risate che si è messa a dire che io sono uno sfigato che ha copiato tutto sì ragazzi io vent'anni fa quando ho iniziato non so dove era questa che si occupa di micro ingegneria sai film di aldo giovanni giacomo quello sto dicendo vabbè ragazzi dai e comunque ti insultano la cosa migliore è fare alla gianni morandi farsi una risata a me più insultano più vuol dire che sto facendo un lavoro perché la gente si incazza quando tu fai le cose che vanno bene le cose che hanno successo le cose che funzionano quindi la gente si incazza e ti insulta e più mi insultano io più godo ragazzi cioè me la prendo proprio con goduria questa cosa perché vuol dire che se cercano di provocarmi è perché stanno fastidio quando dei fastidio è perché stai dicendo le cose vere come stanno e magari non stanno bene a tutti mai mai ragazzi cedere alle provocazioni vi provocheranno in tutti i modi io guarda di base non rispondo ok di base non rispondo cancello e buonanotte però ogni tanto per ridere qualche battuta lo faccio però non dovete mai cedere alle alle provocazioni mai 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 cioè di base sentite quello che ha da dire la gente perché potrebbe nascondersi una una verità ok nel senso che se c'è un problema nella vostra assistenza se non rispondete mai e quando vi vi scrivono e poi fanno una recensione negativa c'hanno anche ragione però 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 e gli insulti gratuiti ragazzi cioè dai non c'è c'è niente da dire quindi non cadete nella nella provocazione ma ridete di gusto e considerate se siete uomini che ogni provocazione che ricevete e ogni provocazione che ricevete riuscite a farvi una risata vi crescerà al pene di un centimetro quindi è una di quelle cose che se siete uomini vi porterà vi porterà successo soprattutto in altri in altri ambiti della vita nel vostro ambito erotico viva gli haters allora sì va bene ecco perché il sottoscritto è a una carica erotica così tanto per tutti gli haters che ho mi hanno ingigantito ok ma non siamo qui per parlare di big penis ma andiamo avanti con la nostra lezione ok quindi abbiamo detto che gli aspetti da tenere in sconezione sono questi cioè vi insulteranno sì un altro aspetto da tenere in considerazione è che dovete cambiare mentalità dovete cambiare mentalità perché comunque per approcciare i social appunto c'è anche il discorso non devo rispondere provocazioni non è un discorso come possono essere delle persone per strada che vi dicono una cosa del genere qua in questo caso dovete cambiare mai se dovete andare avanti a testa alta e continuare a fare quello che avete fatto e avere questo cambio di approccio di mentalità anche il fatto di investire continuamente è un discorso Enzo sì sì puoi scrivere quello che vuoi anzi vai tranquillo e a voi donne cosa cresce e vi crescono le zizie quindi se vi può far piacere invece se andate troppo grosse vi si riducono cioè è una cosa che come la carne se sei grasso ti fa dimagrire se sei magro ti fa ingrassare quelle cose che vanno bene in base alla tua situazione ok quindi il mindset è un discorso che comunque dovete cambiare ok e soprattutto l'altro l'altra cosa che secondo me è molto importante del social selling è che tu dovrai sempre avere cercare di avere costantemente margini alti margini alti cosa significa non è detto che il mio prodotto principale che io venda debba avere per forza un margine alto se sono poi bravo a vendere a sellare un prodotto al margine alto dopo va bene lo stesso ma se attenzione a quello che sto per dire una cosa molto importante se quello che voi vendete non vi dà margine non c'è budget non c'è facebook non c'è roi non c'è roas non c'è niente di tutto quello che dice il marketing che potrà funzionare voi dovete fare soldi ragazzi dovete dovete staccare da quello che vendete dei soldi da mettervi in tasca ok magari non subito esempio del cinema quando vado al cinema io sono convinto di pagare il prezzo del biglietto in realtà non sto pagando quello perché il cinema non guadagnano un cazzo sui biglietti avete notato che adesso addirittura li fanno sempre più gratuiti penso che il cinema breve sarà solo gratuito come il viaggio in aereo di ryanair sarà gratuito tra un po ma perché perché con tutti gli upsell loro guadagnano di più praticamente fatti il conto di quanto ti costa un cestello di caramelle così al cinema cioè è una roba che insomma a loro costerà 50 centesimi te la vendono a 10 euro è un ricarico esagerato come ce l'hanno i popcorn come ce l'hanno tutte le cose che ti vendono dietro quindi in realtà il vero guadagno del cinema è la somministrazione di bevande e cibi non è il biglietto del cinema il biglietto del cinema è quello che serve a loro come front end come prodotto principale per poi upsellare ma non voglio parlare di questo però l'importante è che tu nella tua strategia hai comunque dei margini alti devi avere dei margini alti perché sennò non vai avanti se non hai margini che ti permettono di avere i soldi da investire in marketing e da investire in formazione da me ovviamente per migliorare non vai da nessuna parte quindi è una cosa che ti consiglio di considerare cioè sponsorizza lavora se sempre per avere il fine ultimo di avere margine alto ok di fatti io non io non vendo prodotti a basso ticket ok a basso prezzo ma è vero che vendo i webinar a volte 59 euro in promo da 79 è vero ma il mio scopo finale è vendere una consulenza la mia consulenza strategica cioè il mio corso strategico costa 1000 euro la mia consulenza annuale ne costa 8000 ok il mio il mio obiettivo è quello perché lì ho i margini per investire marketing ma da 59 euro secondo voi quanto marketing posso fare avete capito non cioè non sta in piedi quindi per me per i per i mi fa ridere michele sto mangiando i popcorn che gli ho venduto io perché in realtà non ho fatto pagare sto webinar ma però sto vendendo col cellulare popcorn it che è un mio sito dove vendo popcorn cioè tu gli ordini ti arrivano i popcorn a casa ragazzi è una genialata che ho appena inventato ok va bene quindi allora quegli aspetti da tenere in considerazione le abbiamo visti mai cadere le provocazioni vi insulteranno vi prenderanno per il culo soprattutto anche certa gente mi dice è marco però ho paura di iniziare a fare video perché i miei parenti i miei amici mi prendono per il culo sì funzionerà sempre però attenzione è successo anche con me quando iniziato tanti sono qua in diretta che stanno ridendo con me cioè all'inizio sì perché praticamente le persone non sono abituate a vederli fare queste cose ma dopo un po' saranno i primi i vostri fan perché comunque quando col tempo vedranno vedranno che quello che fate è giusto fate del bene fate delle cose che servono veramente e alla fine diventeranno vostri fan no però ho avuto anche amici che si sono incazzati con me e quando ho iniziato a fare video un po' tre anni fa un po' più di video un po' più continuativi mi ricordo di un mio amico che si è incazzato mi ha tolto degli amici di facebook e ha detto non sono d'accordo con quello che fai punto fine ciao vaffanculo si è incazzato proprio e non so perché però la gente è fatta così però è stata una minima parte la maggior parte delle persone tra l'altro voi che siete qua a guardare avete messo un bel like al video a questo video qui avete fatto share ragazzi insomma datemi un posta diretta se no io qualche parlo come un missile voi non fate niente lì a mangiare i poccone e che cavolo va bene ok il social selling quindi oggi è il miglior modo di vendere voi potrete non crederci ok magari qualcuno non ci crede ma oggi è necessario e fondamentale partire dai social questo perché i social sono il più grosso bacino di potenziali clienti a basso costo ragazzi sono tutti lì cioè stasera non è serato per parlare di numeri di facebook ma vi rendete conto cioè è come se tu vendessi acqua e ci fosse una folla di gente assetata sotto casa e tu non scendi a comprare a vendere l'acqua ma cerchi di venderla sul terrazzo che cazzo vai sotto no ti verrebbe da dire vai giù lì è lì che devi andare a vendere la tua la tua acqua c'è la gente perché non ci vai cioè sarebbe sembrerebbe stupido attenzione come se ti dicessi per entrare paga un euro spendere soldi ma ragazzi stiamo parlando di cosa c'è costa un cazzo sponsorizzarsi su facebook cioè acquisire con facebook costa niente io vi farò sempre l'esempio prendi un commerciale che va a vendere tu vendi tazze va a vendere le tue tazze in giro quanto ti costa quanto ti costa e anche se tu dici io sono furbo lo metto a provvigione non gli do un cazzo quanto tanto questo qua se non lo fai non lo fai guadagnare perché comunque avrà le sue due tre mila euro al mese di spese ti vanno a fanculo ok quindi quello è ragazzi sono 50 mila euro l'anno e voi mi state dicendo che non trovate mille euro al mese da spendere in marketing ok mille è già una cifra si può partire anche da meno io non ho mai detto di partire con budget alti si parte da 5 euro a post a video per fare i test ma chiaramente poi quando quando si metterà in moto la macchina si avrà la possibilità di investire sempre di più quindi ragazzi oggi il social selling è il modo migliore per vendere oggi dovete partire dai social per fare clienti acquisire i clienti non so più come dirlo i social ok il social il miglior posto per acquisire clienti a costo basso costa poco perché ancora oggi ti posso dire che acquisire un e-mail ti può costare un euro due in america posso dirvi che costa già di più costa 15 20 20 20 20 dollari ma ci rendiamo conti cosa stiamo parlando ragazzi è poco bisogna cercare solo di fare le cose fatte per bene ok con i social fai la differenza di brutto con i social vendi di brutto se li sai usare abbiamo una domanda qui fiona mi dice puoi fare un esempio concreto scusa mi puoi ripetere la domanda che ti faccio l'esempio concreto non ho capito bene cosa ti riferisci mi sono non so a che punto mi hai fatto la domanda ok scrivi scrivi la domanda nel nei commenti ok i famosi 300 euro al mese minimo sì allora in realtà non esiste una cifra minima cioè io dico minimo fai un post da 5 euro minimo e comincia a farne per testare quelli che funzionano poi da lì si scala ma l'obiettivo è aumentare costantemente cioè la mia cosa è essere mettere soldi ragazzi per fare soldi sui social dovete mettere soldi quando ti trovi in difficoltà perché tutti ci troviamo in difficoltà non un giorno io penso che scriverò un libro e scriverò un libro di tutte le difficoltà che ho trovato nella vita ok ciao antonio non ho capito cosa dobbiamo fare sui social puoi fare un esempio concreto sì te lo faccio subito guarda intanto ciao ok non so di cosa ti occupi tu allora ti faccio un esempio su di me cosa dobbiamo fare se hai seguito il webinar all'inizio detto per vendere quei social cioè fare soldi con i social avere profitti dai social devi avere una serie di meccanismi che funzionano insieme ok sincronizzati che girano insieme la prima cosa che deve avere è ovviamente un prodotto servizio da vendere io lo chiamo la big idea ovvero un'idea che sia differente che faccia dire alle persone cazzo compro questo piuttosto che andare da un concorrente questa è la base poi devo avere un target specifico non posso vendere tutto a tutti ok ovviamente dovrò avere un target specifico a cui mostrare questa big idea poi dovrò avere un format il format è quello che sto utilizzando io adesso io faccio video faccio dirette o articoli insomma tutto quello che serve per fare informazione stasera c'è un webinar c'è un webinar che magari ci stiamo facendo anche 4 risate insomma un webinar è un format adatto al social network questo qua ok quindi funziona perché funziona come funziona sui social network quindi quando hai un format il format è quello che ti serve per far vedere per mostrare la tua big idea al tuo target tu adesso in questo caso sei il mio target perché sei guardando un mio video il mio format serve per mostrarti i miei corsi e servizi che vendo a pagamento infatti dopo ti proporrò di comprare di diventare uno studente del razzo un mio studente ce ne sono già qua di razzi che che non parlano e che parlano ok però quello che farò dopo è chiederti vuoi diventare uno studente del razzo comprati il mio corso in promo semplicemente questo quindi per farlo metti budget perché metti budget perché ho acquisito faccio acquisizione clienti su facebook quindi prendo la mail mando le mail stasera guardatevi la mia diretta ho sponsorizzato un post guardatevi la diretta di stasera e qualcuno lo chiappa anche in organica quindi in realtà investo il budget e dopo tutto questo c'è il mio funnel ovvero adesso stai guardando un video gratuito poi c'è un corso gratuito c'è un piccolo corso pagamento e poi ti porto a comprare i miei corsi più costosi da 1000 euro e da 8000 ok chiaramente nel funnel vanno avanti quelli che hanno le possibilità economiche quelle che sono in target se no si fermano a questo livello e questo può essere replicato per qualsiasi business cioè non c'è differenza ragazzi che voi vendiate carne e vi posso assicurare che c'è chi vende carne online che fa soldi e chi vende bare e insomma nel porno in qualsiasi cosa vi venga in mente possibile utilizzare queste cose perché vi dico perché in vent'anni che mi occupo di marketing ho fatto tutto ok quindi in realtà sono un po' quei cuochi che hanno sperimentato tutte le cucine se hai qualche domanda in più Antonio falla pure che ti rispondo volentieri intanto la cosa che dobbiamo vedere adesso è come passare al livello successivo appunto al livello successivo e diventa uno studente del razzo come si il mio corso in promo ok stasera faccio una promo il corso costa 79 euro e ti arriva a casa un bellissimo dvd più bellissimo manuale con una bellissima scatola dove tu ti puoi comprare e diventare uno studente del razzo i razzi sono quelli che studiano con me le azze non servono a un razzo appunto è il corso che ti fa capire come devi fare per sponsorizzare senza bruciare soldi ti arriverà una bella scatola a casa avrai l'accesso digitale diventerai un un mio studente del razzo e avrai la possibilità di guardate che bello questo banner accattati le ads non servono un razzo avrai la possibilità di diventare appunto un mio studente allora vi metto nella pagina il link potete andare a prendervi in promo il corso costa 79 euro ve lo sgancio a 59 stasera va buona allora vi metto il link intanto se avete qualche domanda fate pure però la prima cosa che vi dico è accattatevi il mio corso ecco qua chiaramente non finisce lì perché poi dopo vi apsellerò cercherò di apsellerò vi tutto quello che che riguarda il il mio corso da 1000 euro ok adesso prendetelo adesso sapete perché ragazzi e non lo dico per fare marketing lo dico perché è la verità adesso io ho una serie di webinar che sto tirando fuori e sono usciti a 59 euro alessandra mi fa una domanda compro il corso se mi spieghi come mettere il banner nelle live promesso comincia a comprare appena vedo stripe che fa plin ti dico subito come fare ok e qua c'è qualcuno che ci dice ce l'ho bravissima nadia una taglia di tette in più ce l'abbiamo una taglia di tette in più anche a te bravissima che avete comprato siete tutti studenti del razzo bravi ragazzi e niente accattatevelo dai è una cosa che vi serve e soprattutto ecco quello che stavo per dire questa serie di webinar che adesso sto vendendo a sto prezzo ridicolo da poco ho fatto anche una promo per tre webinar più una mia consulenza a cos'era 200 euro ecco tutta questa roba finirà non la vendo più e finirà tutto nel mio corso strategia social academy che costa 1000 euro tutto lì se poi se poi vorrete accedere a questi materiali l'unico modo sarà perché venderò solo a 1000 non scendo più sotto dei 1000 ok questo questo va bene adesso però da lì in poi per chi è già un razzo ci saranno le opportunità ma chi arriva dopo io vendo da 1000 in su perché non mi conviene quindi accattatevelo adesso ragazzi che è il momento migliore potete andare nel link che ho messo nei commenti oppure andate in quello in sovraimpressione ho sempre desiderato dirlo guardate che bello la sovraimpressione è una cosa fighissima benissimo ragazzi se avete qualche altra domanda fatemela sono qua per voi passata un'ora e 10 minuti parliamo di quello che volete spero che vi sia piaciuto intanto questo webinar sia stato interessante come qual è la strategia esatta che da utilizzare per vendere di brutto ragazzi funziona io veramente ho un botto di casi studio che sto tirando giù di miei studenti i miei clienti che ho aiutato con le azze ragazzi non c'è santo che tiene cioè voi potete avere una roba cioè un cambio cambio di profitti micidiale è chiaro che dovete mettere mettere i tasselli nella posizione giusta perché altrimenti invece di profitto farete ads bruciate ecco perché vi dico sempre di smettere di fare le ads compratevi il mio corso facciamo le cose fatte per bene ok il prossimo webinar tra l'altro ma poi ne parlerò un'altra volta parlerà appunto di tecnicamente come fare le cose bene ragazzi dai diamoci uno spazio domande risposte oppure solo solo risposte come volete voi e poi ce ne andiamo anche a dormire perché domani è un domani è un'altra giornata che per me non cambia niente nel senso che spengo i riflettori continuo a lavorare poi mi alzo domattina continuo a lavorare tanto si dice che chi fa sta vita chi lavora vendendo corsi non fa un cazzo io vorrei che fosse così ragazzi qua si lavora a ritmi serratissimi soprattutto se se fate tutto da soli come me cioè ho un team di persone che mi aiutano ringrazio sono per carità mi sopportano sopportano le mie esterie e le mie bestemmie però è di base si lavora molto non c'è sabato e domenica si va avanti insomma dei treni quindi è una vita stancante però se vuoi far profitto è così cioè vuoi far grane ragazzi io ho in mente di scrivere un libro dove parlerò delle mie esperienze dei miei fallimenti perché sono stati tanti di miei successi dei miei profitti nei miei profitti cioè mi piacerebbe proprio creare un mio la mia storia e farò vedere quanto è veramente realtà è dura non è semplice per niente non è durissima e se vuoi superare soprattutto il primo scoglio iniziale ovvero quello di passare da fare quello che hai sempre fatto fare qualcosa in più stessa dalla fatica e vabbè ognuno fa fatica a modo su ma stacci tu stacci tu 70 minuti a parlare davanti a un microfono e soprattutto dire cose che hanno senso perché dire cazzate sono capaci tutte si vede che sei stanco ma dai tu cosa poi cosa vuoi parlare che tu sei sempre stanco anche quando dormi sei stanco insomma non fai testo comunque no a parte le scherze ragazzi è una vita cioè è chiaro dicevo proprio per fare il salto il primo salto iniziale è quello più difficile perché dal momento in cui poi passi passi dal non aver fatto niente al Antonio dice buonanotte buonanotte Antonio ci sentiamo la prossima quando devi passare da non aver mai fatto nulla cioè fare quello che hai sempre fatto ad avere cominciare a fare a far ingranare le cose che ti danno profitto quello è difficile il primo scalino poi da lì in poi è tutto più semplice quello che si dice online è difficile fare la prima vendita da un euro ma una volta che l'hai fatta era molto più facile fare quella a vendere 10 euro di roba 100 euro di roba 1000 euro di roba è così cioè non si scappa per superare il primo gradino ragazzi ci va una ci va uno slancio micidiale perché il primo gradino è il più alto poi da lì in poi è più semplice Michele dice io sono nato strano tu non sei mai nato quello che parla è soltanto è soltanto una tua fantasia ok ragazzi bene dai allora niente spero che vi sia piaciuto il webinar mettete un bel like compratevi il corso e diventate anche voi degli studenti del razzo fidatevi e fidatevi anche delle recensioni che ci sono è un corso bellissimo ma soprattutto mi darete i soldi per la benzina l'elicottero come ho scritto nella mail di oggi va bene che ne ho bisogno perché tra poche ore mi aspettano al mio resort in sardegna e insomma vorrete mica farli aspettare lì ma se sei tanto lavoro come posso sfruttare pagandoti bravissimo ragazzi sfatiamo un mito ok diciamo le cose come stanno voi siete i miei potenziali clienti oppure miei clienti ok pagandomi voi vi sentirete meglio cioè se tu mi se stasera mi fai un bel bonifico strisci la carta dormirai con un senso di pace come un bambino è presente quelle volte lì che quando hai la febbre ti addormenti dici ho dormito porca miseria sembra che non dormivo da una ecco bravo quindi quando mi pagate vi purificate la vostra anima si eleva proprio andiamo verso il nirvana daniela mi fa una domanda seria avendo abbigliamento da bimbi sponsorizzo un posto al giorno 5 euro può andare bene allora per iniziare a testare i vostri annunci sì cinque euro ragazzi non buttatene di più anche se voi avete un budget di centomila euro da mettere sponsorizzate testate gli annunci a cinque dieci euro cioè quello è quello che fa chi fa sul serio come me non sono l'unico al mondo che fa sul serio e non sono neanche quello che ha più budget perché ragazzi in america c'è gente che è veramente spessa ok che ha dei budget micidiali io lavoro in italia sto mi sto approcciando nel lavoro anche in altri paesi però non ce li ho comunque 5 10 euro sono anche i budget che utilizzo io per i miei clienti che quando hanno disponibilità molto grosse quindi sì però attenzione devi avere tutto il meccanismo di cui ti ho parlato prima che funziona bene una volta che la macchina funzionerà bene quindi il tuo funnel funziona avrà un ritorno un ritorno dove anche un margine da quel margine devi staccarci altro budget quindi da 5 diventeranno 10 da 10 diventeranno 20 così via cioè il tuo pensiero deve essere quali sono le azioni che mi servono per poter aumentare il budget devo avere più margine ok quindi devi far lavorare il tutto per avere più margine ragazzi nella vostra sta qua e qua ragazzi nella vostra testa ok se vi sbattete per vendere mille euro di roba vendete mille euro di roba se vi sbattete per vendere 100 mila euro di roba vendete 100 mila di roba è lì ragazzi è lì dovete solo farlo va bene poi i periodi di difficoltà ci sono ci sono ci saranno sempre per tutta vita per tutti soprattutto quando aumenti il tuo tenore di vita quando aumenti i tuoi profitti quando non è vero che non avrai più problemi ne avrai altri e la vita è solo un risolvere problemi bella questa dopo questa potrei andare a dormire anzi sapete che faccio la scriva qua la vita solo sempre più grandi sbagliato lo riscrivo la vita è un problema e mettiamola così non c'avevo voglia di riscriverlo va bene ragazzi vi saluto è stato divertente abbiamo parlato un bel po' mi è piaciuto fare questa live serale con la mia tisana dove abbiamo parlato un casino e spero che la cosa sul social selling sia più chiara e direi che ci vediamo prossimamente se vi piacciono ste live mi raccomando mettete like fate share insomma tutto quello che si deve fare per essere dei buoni angioletti e soprattutto diventate studenti del razzo e bonificate la vostra anima facendomi un bonifico va bene strisciate la vostra carta i contatti sono nel post vi voglio tanto bene e ora vado anch'io a continuare a lavorare ciao ragazzi e buona serata grazie a tutti grazie a tutti